Gli ingredienti per la ricetta di un evento vincente sono musica dal vivo, colori, tanta gioia, sport, volontariato e un bello spazio all'aperto. Mescoliamo bene e avremo Colora la vita 2.0. Si ripresenta dopo il fortunato successo dell'anno scorso la coloratissima giornata organizzata dal collettivo giovani dell'Avis Fano, dove famiglie, bambini, adulti, ragazzi e ragazze di ogni età dopo due giri di circuito Marconi saranno completamente ricoperti di colori e formeranno a fine giornata un caleidoscopio umano. Tutto questo avverrà nel pomeriggio di sabato 28 maggio, obiettivo superare il numero dei 700 partecipanti dell'anno scorso. Non sarà soltanto una corsa colorata, come appunto dice Colora la vita, sarà ancora di più una festa. L'anno scorso hanno partecipato quasi 700 persone e finita la festa ci siamo detti tutti, dobbiamo raggiungere i 1000 partecipanti. E così siamo certi che sarà, sarà appunto non soltanto una corsa, sarà una festa fantastica, ricca di colori e ancora di più quest'anno ricca di musica. Abbiamo creato un palco dei DJ, dei vocalist, proprio per far sì che sia una festa da ballo, non soltanto di corso o camminando, perché devono partecipare le famiglie con i bambini, devono partecipare anche le persone adulte, quindi anche coloro che non proprio tanto corrono ma che vogliono passare un grandissimo pomeriggio. Portare gadget, indumenti sportivi o che comunque ricordino le Olimpiadi per aiutarci a rendere ancora più colorata la nostra corsa. Il ritrovo è all'ora 16.30 dove i partecipanti potranno iscriversi e ritirare il pacco gara. E dalle 17 in poi avremo un'animazione curata da Lion King, alle 18 partirà la corsa che consta di due giri del circuito Marconi dove i partecipanti troveranno sei postazioni di colore che li coloreranno tutti. Verso le 19 finirà la corsa, alla fine avremo appunto questo rinfresco, questa piccola merenda e poi per finire in bellezza giornata tireremo delle lanterne colorate verso il cielo.